Piazze di spaccio a cielo aperto, controllate da giovani, vedette, incappucciate e armate, pronte ad allertare gli spacciatori turnisti dell'arrivo dei carabinieri con parole in codice urlate dai tetti dei palazzi. Le vie di accesso a Rione Traiano erano presidiate da veri e propri checkpoint per individuare e guidare gli acquirenti alla più vicina piazza di spaccio. Maxi blitz dei carabinieri coordinati dalla DDA nel Rione Traiano di Napoli, eseguite misure cautelari nei confronti di 86 persone e 75 in carcere, ritenuti appartenenti al tram Puccinelli. Accuse di associazione finalizzata al traffico e spaccio al dettaglio di droga aggravate dal metodo mafioso. La zona, considerata roccaforte del clan, secondo le indagini, le familiari confezionavano e vendevano cocaina, hashish, marijuana e in bunker video sorvegliati e blindati realizzati abusivamente nei sottoscala delle case popolari. Il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, Ubaldo del Monaco, che ha partecipato alla conferenza stampa in procura. L'indagine ha consentito di documentare un vero e proprio mercato della droga attivo H24 nel rione Traiano di Napoli, nell'area occidentale del capoluogo partenopeo. Era una vera e propria catena di montaggio nel quale ciascun aveva un ruolo rigidamente definito, dalla vedetta, dal capopiazza, dal cassiere, dal contabile, dallo spacciatore turnista, fino ai pusher mobili che provvendevano a consegnare le dosi di sostanze stupefacenti a domicilio ad una clientela selezionata. Il giro da fare calcolato è oltre un milione di euro. È stato appurato che ogni gestore della piazza doveva versare 12 mila euro al mese al capo clan.